Genova Con la exatamente 1, Kenya Con la 2, Russia Nove caselle E dopo le 9 caselle 9 oggetti E dopo i 9 oggetti una domanda Cosa si nasconde dietro la casella? 9! 9, il primo pallone è un pallone da calcio, la bicicletta! E sì, 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 l'otto nero! L'otto nero perché... Il primo pallone è un pallone da calcio, la bicicletta! Come voglio essere il pallone da calcio, il pallone da calcio, il pallone da calcio! Ho vinto! I risultati che sono i miei risultati possono essere o Giappone o Australia? O Giappone o Giappone?